ho tornato prima perchè se no non potrò girare oh regà mi raccomando le gomme da usato le hard le semi slick sono stradali ma va per chi è entrato adesso che ha mai provato ti vogliamo bene oh scusa vai 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 ma va no figurati vediamo se riesco a far due giri comunque lo sai qual è il problema dell'ass tracker cioè è minorating che lo manda in tilt me lo ha detto l'altro giorno eh celestino glielo famo togli minorating si cazzo facciamo togli è colpa di tr tanto alla fine siamo noi ma noi minorating non ci siamo cazzo bravo ragazzi lo sapete come stavo facendo streaming da ops in 2k in 2k e grazie al cazzo questo schizzava dove l'hai vista la come cazzo si dice e no è dentro opzioni ci sta il tab streaming dentro video e lì ho spuntato scala praticamente scala risoluzione e quindi ho messo hd adesso allora impostazioni poi eh ora sto guidando però dentro dove si dove ci sta la tab streaming registrazione stream no stream video video ok ok che soluzione base 1.9 no allora non era quello oh prova le tutte le so 3 meno in su non mi fate uscire di nuovo dai vai vai passa 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 tranquillo vai vai ci sta una tab dove ci sta streaming registrazione eh raga piccolo briefing prima dell'inizio mi raccomando le hub segnalate gli incidenti se ce stanno nella sezione sempre del sito eh mi raccomando a me ti sei scordato una B sul nome eh quale eh no ha fatto Cesare parla con Cesare Cesare ti sei scordato una B eh me mi hanno detto che era una eh vabbè tanto devo correggere una cosa e rilasciamo una ma c'è l'abbiamo rinominato Marco eh ti abbiamo rinominato da oggi in poi sei sabatini ma sulla skin Marco no? no la skin è scritta giusta la mia su nome no no è scritta male si si ha la skin che il nome qua su su s-tracker Cesare è proprio l'italiano legato eh vabbè grazie sentitevo si adesso si chi è? ciao ciao chi è? c- 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 pensa io c'ho il terrore che i miei figli faranno le stesse scuole di Cartoggi ecco mamma mia sai come diventano belli e forti come l'uomo zio ancora non ce l'ho i figli ma... ma sono già preoccupato bravo e questa è andata tutto nello streaming ciao mamma io mi auguro solo che almeno non prendano quell'aspetto di cartocci che fotografa delle sue creazioni particolari eh no ma guarda ho capito che qua si usa lo sai ah si? non mai come le mie no ma per lì è la burinaggine coattaggine burino no oh Alessio ci sei? che cosa vuol dire burino? ah grava Alessio mi sento un po' bassino però cosa vuol dire burino? burino o uno dei fuori città? ah alza un po' il microfono aspetta un po' uno scusa ma non ti ho sentito uno dei fuori città ma chi è burino? capito? De provincia mi hanno dato del bullino a lei ah beh no mica scusa adesso che lo so coattro tamarro laziale laziale bravo tu sei laziale oh provi sei laziale ma Luca? oh mua arriverà la starà mangiando la sua Red Bull no diceva Raboni ah mi cugino sono Marchesano non c'è non c'è lungo porca puttana eh lo bassino si eh non so come cazzo che vuolare questo vabbè tanto un campione durante la gara stiamo muti si ma un'altra cosa come faccio a impostare il tasto per il nudo durante la gara? oh mua che cazzo eh dopo te lo dico tu lo dici dopo quanto? dopo la gara? allora devi andare in option di Steam ah di Steam proprio? eh sì no no su TS puoi fare eh sì di TS c'ha volevo di Steam ah su Team Steam no? sì aspetta ti sposto giù che lo faccio me lo facciamo insieme grazie comunque Marco se ho sbagliato il cognome è anche perché tu non ti chiami Sabatini su Facebook ah ah è vero è vero è vero eh non so non so se ce ne vanno due tre di B ah 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 bunda bunda ma sei con Mata questa cazzo di pisa sì è vero che cazzo e ora si riesco a fare un ciretto troppa gente qua va siamo tutti vai vai avanti tiri oh guardate in due millesimi quante persone siamo sì è bella siamo in quattro in due millesimi vai qualifica questa no? no no bravo bravo si è ancora dieci minuti di bravo oddio mamma mia che posso stavo aspettando che passessero gli altri stavo guardando i tempi non mi aspettavo di trovare qualcuno fermo all'altro scusa no figurati scusami Demis mi sto girando no niente tranquillo ma c'è pure Demis ciao bravo Demis si sta nascondendo ciao come va ti lagga? ti lagga? ti lagga? ti lagga? ma in questo momento no va per io ti va speriamo bene eh ma dobbiamo provare pure da te a settare meglio OBS perché ora lo streaming mi va liscio ciao 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 poi lo facciamo venerdì no 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 sto venerdì non ci sto che scendo giù per Pasqua dovevamo fare quella cosa vabbacculo ebbè ma dai per questa no lo facciamo per l'esordio va bene va bene cazzo Cesare sarà quello preso più di mira Cesare oh comunque dà le skin a tutti tranne a Samu quindi il problema è del file Giorgio io la trà io te lo facciamo Manu domani te lo uppo no no lo cambio io l'uppo direttamente a fine gara anche a me non si vede la skin chi sei? c'è non proprio Ragusa Luca a lei la si può scaricare? se devi scaricare il pacchetto delle skin certo che fai non lo scarichi e anche a te se vede Luca eh pure a me a me metà quella rossa a fine gara mi rimandi lo Steam ID pure tu per favore ok ah fino alla benzina eh a proposito di benzina quanta benzina sono benzina ma che anche visto boh ancora non ho visto nooo ma dimmi dopo perché io ma entravi adesso? Giuseppe attenzione sta facendo un tempore va bene Lu attenzione ragazzi al rientro in pista e dopo di francese funzionava tutto Lu ma si aspetta la metto al volo dai l'hai giuppata sul sito? si sotto la gara campionato calendario che vuol guarda come che non mi la guarda Non c'è un po' Salute! Buona! PAPA CULO! guarda il culo, mannaggia vediamo perché lui ha la cosa qui eh grazie al cazzo Luca abbiamo un problema tu, ho capito perché poi dopo lo sistema sono partito anch'io con la live tranquillo, tranquillo perché la fase di entry list gli è stata assegnata la rosso scuderia chi è partito con live? io Ale ho capito vabbè ma già mi avevi dato il link si si, vabbè si giusto il cazzo che sto mangiando uno si sta mangiando un minofuro oppure sta facendo un po' una cosa strana buono buono è messo al culo abbiamo pensato tutti mai ai risulti anche io anche io rischio occhio a curva dre si c'era Mirko che trotolava gg la trottola 3 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 4 4 4 4 4 4 5 5 5 6 5 5 5 5 5 6 5 5 6 6 6 6 6 7 7 8 5 6 6 7 7 7 7 8 8 8 9 9 10 10 5 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 6 6 6 6 7 6 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 10 10 10 11 10 10 11 11 12 12 12 13 14 15 15 15 15 16 17 15 21 18 18 19 20 20 21 21 21 Dove dobbiamo mettere la cartella skin, quando mi entrò la cartella è 458S3Skin Ma che sarà mai dato a Francesco il link dello streaming? Si, camp 4 slash black bull Ragazzi dove l'avete messo? Spagnia Vado in bagno Ah vediamo un po' come va Vado a salutare mia moglie, quanto manca? Grazie Oh dai con lo streaming Stiamo in streaming strozzo BBB tuo Oh dai Ma è fattibile dai Ma Luca Marquesan non si vede lo streaming? Come no? Eh non si vede, solo tu non si vede Sì ma tra l'altro Luca tu hai sempre avuto problemi di streaming Ma comunque c'è qualcuno che fa eco Ah Luca Ragusa Fa eco Ah Sì Ho il GeForce Experience che mi crash, non so perché sto figlio di puttana, da quando che metto processore mi da sto scazzo di scherzo Comunque niente dice In attesa di Luca Marquesan Eh aspetta e spero Eh Come direbbe Cartocci devo scaricare il driver della CPU Sì Va bene Vabbè se per caso pensi di risolvermi da il link Entro l'anno No il link è sempre quello Ah e allora sono problemi due Piccola quando ho cambiato il processore mi hai fatto scherzo qua un po' di settimane Eh E' roba proprio scarsa C'è che hai messo Luca? Il 6 e 9k Ah ma c'hai Il bestione Il bestione Allora vediamo qua come va Che cazzo vuoi ancora? Ma il 6700 in c'è il 6700 è tu una volta? Sì prima sì Che fine ha fatto il 6700? Venduto Eh? Venduto Me lo puoi diventare meno? No? Il rietirato un lagone esagerato Eh che ne sapevo che cercavi uno? A quanto l'hai venduto? 220 100 euro Ti trovi meglio il 6900? Eh cazzo Sì E' un processore da 1100 euro Vuole dire che mi trovo meglio Sei uno stronzo Fiorre dovevi linkare il sito Ah? Dovevi linkare il sito Vabbè l'hai linkato tu Ho il mistero delle GeForce NVIDIA Lì cazzo di streamer Che non aggiorna le specifiche Devo reinstallarlo Il mistero della pietra giurla Da installazione rapida su Dai No non me l'ha preso Waffa Allora sto Ghost Recon Lo prendiamo o no? Nooo Eh io ci stavo pensando Lo sai? Pure io Dobbiamo essere in 4 Eh quello no dai Che cosa? Che cosa? GFS 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 G G L E S Ah ma c'è pure è arrivato pure Andre Ciao Andre Buonasera Bene ragazzi È stato bello Adesso sei niente Ma questa è la reddiving Quindi me porchi si moltipliceranno per 4 insomma Che cazzo fa la Juve vince 2 a 0? Si 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 Merda Questo lag Eccolo I lag ce l'avete all'uscita del tornandino Grazie è ufficialmente partito il torneo Vabbè non è vero dai Ma fa punti? Fa punti questa gara No questa no Questa no Fa gloria però dai Glorio? Sai quella rottura di palle che domani mattina tutti quanti diranno Ha battuto in barcellona Ti aspetta che finita Ha perso contro il celtanigo Lo abbiamo ancora battuto no? Sì Zitto Via 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 No parliamo di calcio Provincio Eh no no aspetta Andate avanti tutti che qua sennò Io seguo il buon sabatini Vai vieni Che tempo fai Marco? Alto Non voglio quanto Quanto? Quanto? E' tanto alto le frate 7 Quanto? E' tanto alto le frate 7 Minchia quanti cazzo siamo ragazzi però Quanto? Vediamo pure di meno Eh Parca troia c'è ancora il P3 in penalti lì Grande c'ho Alessio dietro Quanto? 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 Scusa Mirko ho fatto Alex stai laggando 300 di ping Io? Io c'ho un Alex davanti Ping a 350 Stacca ai porno Stacca ai porno Stacca ai porno Ma quanti cazzo siamo? Tanti Tanti Stacca ai porno Stacca ai porno Ti ti asci 0 Stacca ai porno Anal communicin Stacca ai porno Stacca ai porno Pronti E' dentro Stacca ai porno Dabba troppo incollato là davanti Sei ma chi è mia? No ti dico sei troppo incollato là davanti Ah Occhio stai No Qui è la numero 24 Uggio ce stai Ce stai Tu non vede nome ragazzo Troppo è bugato col VR Quindi vedo i vostri numeri passati Io mi muto un po' che devo far uscire Scusa Oddio Sound muted Baby Scusa Influenza Coloscato Scusa Espero Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. Yeah. Yeah. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. con... a tutti. a tutti. a tutti. ... a tutti. a tutti. ... a tutti. ... ... ... a tutti. 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 a tutti.